amici buona serata inizia ora 105 net express pochi istanti e saranno le 21 amici buonasera buonasera e benvenuti a 105 night express questa volta riuniti finalmente da roma attenzione ragazzi ci sono dei dolci su questo tavolo per l'occasione cioè pasticini li facciamo vedere perché tanto sono senza marca quindi eccoli guardate quanto quanto è bella questa non si vede si vede quanto è bella questa ragazza cioè per il mio rientro a roma dolce sapendo che io avessi già cenato assolutamente sia le bisogna festeggiare non vedevamo l'ora di questo momento ed è finalmente arrivato eccoci qua amici buona serata inizia net express quindi con rebecca saffelli alessandro sanzone nello stesso studio ogni tanto accade anche questo mentre da lontano c'è il nostro regista del corazon che se la ride perché te la stai ridendo si può dire